caparezza dalla parte del toro per tac tutta un'altra comicità solo su rbe luciano siamo pronti per un nuovo sketch che dice andiamo si siamo pronti dalla parte del toro tra l'altro brano apprezzatissimo dal tifoseria granata di rbe le dirizate finte le vogliamo anche noi le risate finte dicevamo adesso sta per salire una grandissima comica che vantaggia un importante curriculum torinese e sono stranamente serio e invece non c'è nessuna battuta perché veramente bravissima pensa che ha già aperto lo spettacolo di michela girò stiamo parlando d'altronde della bioncè di vanchiglietta e della grandissima principessa di pinerolo ormai principessa consegnata all'ansia e alla gloria serena bon giovanni ciao buonasera buonasera che bello bellissima anche la falsità di luciano che ringrazio sempre per la mia autostima allora io sono veramente contenta di essere qui questa sera anche perché per me è una giornata un po' triste una giornata un po' particolare e quindi volevo condividerla con voi oggi mia madre ha smantellato la mia vecchia cameretta di quando vivevo con lei e sono sempre quelle giornate un po' tristi perché subito ti vengono in mente i primi baci i primi sguardi la prima volta in cui mi sono masturbata pensando che fosse solo un fastidioso prurito intimo ecco più o meno è andata è andata così ma oggi mentre ero lì disperata a piangere mi chiama mia madre ridendo e dicendomi a sere non fai capire cosa ho trovato in un cassetto mamma non c'è niente da ridere una giornata delirante ho trovato una lista con tutti i tuoi fidanzati e tutti i tuoi partner sessuali ok allora prima che mi giudichiate io amo le liste faccio liste per ogni cosa il fatto che questo sia solo un trip advisor dei migliori corpi in cui abbia soggiornato non dice niente di me ma dice molto delle persone con cui sono stata non so se vi siete mai posti il problema ma nel caso lo farò io stasera di quanto le differenze culturali possano cambiare un intero amplesso io riguardando questa lista ho notato subito che gli italiani di solito come prima cosa mi hanno sempre chiesto del sesso orale i sudamericani del sesso anale gli svedesi il consenso ecco non so se siete mai andate a letto con un ragazzo svedese sembra di stare da sephora durante il periodo natalizio ha bisogno di qualcosa posso esserle utile si sente al sicuro vuole una mano ecco in particolare jonathan era fissato con l'impossibilità di venire senza un mio ok esplicito can I come can I come now and now are you feeling safe ecco devo dire che inizialmente questa cosa un po mi eccitava perché mi sentivo un po la doganiera degli orgasmi dopo di che devo dire che un po mi eccitava dopo un po iniziato però a spaventarmi ho detto ma come mai tutta questa paura tutta questa attenzione e ho scoperto una cosa incredibile c'è in svezia esiste una legge per cui sesso senza consenso esplicito è considerato reato è incredibile incredibile noi in italia ce l'abbiamo ce l'abbiamo che bello siamo uno dei pochi paesi europei a non averle abbiamo anche questo primato e funziona così in tutta europa in tutta europa in alcuni paesi hanno fatto addirittura di più per esempio in danimarca esiste un app che si fermano una sorta di contratto temporaneo in cui possono entrare liberamente l'uno dell'altra per 24 ore una sorta di green pass temporaneo del sesso una roba del genere però non ci preoccupiamo perché mi sono informata e anche in italia durante i processi di stupro molestia controlliamo un'app che l'app di zara per vedere che cosa aveva acquistato la vittima nella settimana precedente all'aggressione quindi comunque c'è lo stesso un controllo che poi io mi dico una volta per tutte ci dessero delle linee guida una sorta di l'only planet della provocazione cioè come dobbiamo comportarci ci facessero una veramente delle linee guida tipo i 100 migliori vicoli da attraversare al buio i 100 migliori autobus su cui essere seguita scopri con quanti uomini puoi passeggiare prima di infondere negli altri pensieri di gang bang ecco ma più di tutti signori e signore l'outfit spiegateci come dobbiamo vestirci e io per questo ho un progetto ho un progetto io vorrei scongelare enzo miccio carla gozzi e fare un programma dal titolo ma come rivestita in cui semplicemente ci indicano come dobbiamo andare in giro vestite però per farlo avrei bisogno di una linea d'eccezione no con un nome un po accattivante quindi potremmo chiamarla come 50 sfumature di consenso i tuoi abiti per ogni occasione d'uso e per le più audaci per ogni occasione d'abuso una roba così che faccio subito sì una roba così che faccio subito capire no allora tre look tre look differenti primo look è un classicone il modello te lo sei cercata quindi è minigonna in paillette top tacchi a spillo come immaginano che veniamo sempre stuprate il secondo look invece allegra ma non troppo quindi vuol dire è un come dire un vestitino lungo però comunque attillato perché in qualche modo la colpa te la devono dare lo stesso ma il terzo il terzo signori è il fiore all'occhiello della collezione ed è un modello non lo fo per piacere mio ma per dare figli a dio ecco è un modello è bellissimo è bellissimo assolutamente rigoroso è un modello total black fino alle caviglie con un paraocchi di pizzo in omaggio splendido loro non vedono te tu non vedi loro incredibile fantastico per farlo però abbiamo bisogno di stilisti d'eccezione persone che ci possano supportare e io per questo ho deciso di chiamare due testimonial d'eccezione che sono giulia roberts e vanessa incontrada ossia una vecchia una grassa a ricordarci che lo stupro è comunque più inclusivo della moda così giusto per ricordarcelo ecco detto ciò vi devo dare una brutta notizia tra me jonathan è finita finita per diversi motivi c'è un po per la distanza un po per le differenze caratteriali un po perché era mio cugino un po tutte e tre però devo dire che un bellissimo ricordo di lui un bellissimo ricordo mi ha sempre trattata molto bene e soprattutto mi ricordo le parole dolci che mi diceva quando finivamo di fare l'amore infatti lui si avvicinava al mio orecchio e mi diceva che è una parola meravigliosa che in svedese vuol dire capelli arruffati dopo il sesso ma si sente anche dal suono che è proprio una cosina dolce ma questo in svedese visto che però in italia sembra più lo starnuto di un nazista ho deciso di provare a utilizzarlo in altri settori quindi ho deciso dove posso applicare e allora ho fatto un po di prove e ho scoperto che serve per allontanare gli animali in caso di pericolo ogni voi siete per strada venite attaccati e l'animale automaticamente va via ho provato funziona con tutti i tipi di animali funziona con gli scogliattoli del valentino funziona con gli orsi e funziona con quelli che ti palpano il culo alla fermata del pullman grazie serena buongiovanni per tac accomodati in platea cara serena siamo pronti per lanciare la prossima canzone della playlist di tac subito dopo la pubblicità ma noi torneremo vero caro luciano siamo pronti per lanciare il prossimo brano ci pensi tu vado io sì un attimo adesso lancio devo riprendermi da una cosa claudio perché serena bongiovanni è riuscita a portare qui su rb è la parola gang bang buono bellissimo quando fa anche rimini la loro disco eccezionale